Arte, scienze e tecnologia per la tutela del patrimonio artistico è stato il tema dell'interessante incontro che si è svolto a liceo Stelluti di Fabriano al quale hanno partecipato il prorettore vicario di Unicam Claudio Pettinari e lo storico dell'arte Alessandro Delpriori. Dopo l'intervento introduttivo del dirigente scolastico Francesco Maria Orsolini, i due relatori si sono alternati in un dialogo sull'affascinante connubio tra scienze e pittura e su quanto sia importante tutelare il nostro patrimonio artistico anche grazie alle nuove tecnologie che sono attualmente a disposizione. L'incontro ha voluto infatti fornire agli studenti presenti una prospettiva di orientamento universitario e professionale, sottolineando quanto sia necessario formare studiosi e operatori specializzati per tutelare e promuovere questa straordinaria ricchezza. Nel corso dell'incontro infatti la professoressa Graziella Roselli ha illustrato anche casi di studi affrontati nel corso di laurea Unicam in Tecnologie e diagnostica per la conservazione di restauro ai quali sono state applicate le nuove tecnologie di indagine scientifica.